musica 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 io ben ragazzi bentornati al nostro canale sempre insieme dream squad c'era un per culo palo e teco costa con dietro osil teco motte che rovina la squadra a mio avviso che è fernando fabrikas e fernando comunque parlando di noi siamo a metà cammino siamo a 5 partite 9 punti mancano 6 punti per la promozione quindi ce la possiamo fare tranquillamente perchè abbiamo ottenuto 2 partite su 5 cominciamo da oggi ovvio un po' difficile però non è mamma mia mangio il pigno oh oh dai però non è un po' non è possibile non è possibile non è possibile non è possibile ma perchè la bestia comunque covacic 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 il mezzo a cazzo 1 mamma mia vai 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 gesù gesù giuseppe maria iguaini iguaini oddio che cazzo ti sei maniato c'è non c'è c'è tu qua bella ah mi mi sto grattando ti piace il petrolio eh che cazzo ah ma c'è una testata va bene pure iguaini ha dato la testata è la palla mia perfetta per cosa ahahah ahahah chi gioca a noi trapano 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 vabbè 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 oh che cazzo ne è uh che diego costa oh e va oh oh no non ci posso dire oh e va è cagato il cazzo mamma mia davvero mi ha fatto e ma è sbragato il cazzo era buona cazzo no bucce da rosso no bucce da rosso bucce da rosso oh cazzo cazzo eh mua mi parezza una brutta storia eh guarda che guarda che bucce di culo vai qua vai vai va va no non ce lo da fuori gioco non ce lo da pezzo di merito 3 a 0 perchè no perchè no eppure in 10 eppure in 10 mamma mia che piani ci dirà il mio uomo ah peccato ma che ha fatto il spazzo aia 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 ma porta meno male che stupido meno male che stupido eh lui si parla una scena uno skiller è uno skiller dell'anno certificato ma ma che aveva con la sua ora mamma mia vabbè pure te però non l'ha dritto fuori gioco fuori gioco che è attivato su un'attuale aiutare vai ebra vai ebra fai il gervinio è vero non è gervinio eh ma ebra c'è via un gervinio eh guardale ebra guarda lui ebra basta bella mamma mia perchè non ci arrivano mai giù che palla e quali non ci posso credere va bene convincenti i trapani e convincenti fa continuo un po' a sto stronzo è la tandem ti piace il pittrono il doppio scambio dimmi che c'è stato uno che cosa cazzo sta succedendo oddio oddio va bene vai tina cazzo mario cd non si è nini anche a calci attieni guarda che c'è in mezzo dai va bene così a posto dopo infatti ma è stato quando ho un material incredibile no 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 non prega niente mettiamo tutta la partita a me non mi interessa perché il sessantatresimo non è che uno se ne può andare così perché rosica quindi dai grano adesso è tutto frega cazzi se ne avete vinto le 5 gol ce la vedete in realtà lo facciamo perché sennò poi domani non riuscirete a vedere il video perché siamo con gli ampi punti esattamente quindi ve beccate ve beccate questi 5 gol bella ciao 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 ciao